Il solito respiro profondo per dimostrare che respiro, respiro, lì che è il Parisi e là che è il Galas, che è Soghigna, adesso si sta mettendo le cuffie se vi interessa, tutti quanti mi domandano da dove facciamo questa trasmissione. Dice, ma dove dal castello perché vediamo dietro una finestra, Galas da dove viene fatta questa trasmissione? No, chiedo scusa un attimo, ascoltatemi, lei fa una sovraimpressione perché c'è un trucco. Una volta, io prego il Galas, dopo entriamo in argomento, mi piacerebbe che la cosa si invertisse, cioè che il sottoscritto scomparisse. E vedete il Galas, il Parisi e tutto l'armamentario che c'è dietro, la sedia, la paltrona, le cose, tutto e tutto. Allora non sono con quella finestra che voi pensate, c'è un'immagine diversa e veniamo all'inglese. Allora, quando uno esce in Italia si dice che esce dalla porta. L'uscita, c'è scritto l'uscita, adesso l'Inghilterra esce dall'Europa ma non è un'uscita dall'Europa, no, è Brexit. Brexit, Brexit, Brexit. La pia la mia domanda, da dove deriva la parola Brexit? La dico, cara pia, vada, io domanda via al professor Parisi che è lui l'istruito, io non lo so. Dico, beh par che sia uscita, uscita, ma non si può, non si può perché siamo in un mondo di elite. Eh sì, gli parla di popolo ma del popolo se ne sbattono le palle. È un frasario universitario ma non me ne frega niente. Del popolo, cosa vuole che interessa il popolo? Che popolo, che interessa niente? Allora Brexit. Quando è finita la guerra, io questo credo di averlo già detto, ma voglio ripeterlo. Quando è finita la guerra, nel 1945, io avevo 18 anni, quindi se qualcuno voleva sapere la mia età, se fanno conti, è il Genvei. La guerra è finita nel 1945 e io avevo 18 anni. Che cosa poteva succedere, secondo voi, quando finisce una guerra? Finalmente si poteva accendere la luce, finalmente si poteva uscire di casa la sera perché prima non si poteva uscire perché con i tedeschi era il copro di fuoco dappertutto, quindi se succede sbareva dentro. Pippo, che era un aereo, che la notte se vedeva la luce, il butteva da una bomba. Allora era un clima, ma finisce la guerra. Allora, secondo voi, quale può essere stato il clima? Io ve lo posso descrivere, raccontare, ma dottore ci dica il vissuto, vi dico il vissuto, ma raccontare è impossibile. Bisogna viverle le cose, io dovrei portarvi all'ora e farvi sentire l'aria, l'odore, il profumo, le sensazioni di allora. Allora, qual è stato il desiderio generale? La pace, ragazzi, la pace, una casa sì o una casa no, la che aveva morto, una casa sì o una casa no, e ha perso la casa. Io avevo perso l'appartamento, la casa a Trento, per chi non lo sapesse, durante la guerra e il bombardamento, anziché ci ha fatto la stazione della ferrovia di Trento, io ho sbagliato qualche metro e ho preso la casa mia e mi sono trovato a zero. A parte questa piccola parentesi, il clima era di pace, la gente ne aveva piene le scatole, piene le scatole. E c'è da dire una cosa per i signori inglesi che sono usciti, che cosa sarebbe stato se al di là dell'oceano una certa America, che l'ha fatto per liberare, perché per immaginarti la dittatura, chi non fregheva un bel tubo della dittatura di Mussolini, era un fatto economico, ragazzi, un fatto economico, se avesse vinto la Germania, l'America si sarebbe trovata col culo nelle pedate, culo nelle pedate, si può dire Parisi culo nelle pedate? culo nelle pedate, perché l'industria farmaceutica, l'industria minerali aiutati, metalmeccanica, eccetera, tutti in mano i tedeschi, la bomba atomica, erano a un passo, a un passo. L'America che cosa ha fatto? Ha armato la Russia e ha armato anche l'Inghilterra. Gli feva 600 aerei in una notte in America, che gliela sbattuti da chi? Quindi la signora Inghilterra ha vinto la guerra perché, e anche la Russia l'hanno vinta, perché gli americani gli hanno sovvenzionati, chiaro, con i dindini e con le armi. A parte questa parentesi, il clima era un clima di pace, basta ragazzi, basta, basta, morti di chi, morti di là, perché cosa? Allora la nostra signora Inghilterra in quel momento, in quel momento era disponibile di basta, allora si è parlato di Europa e tre nomi vanno detti, tre, Adenauer, Schumann e De Gasperi, tre nomi, loro hanno fatto l'Europa. Si sono seduti a un tavolo, si sono guardati nelle palle degli occhi e hanno detto i nostri figli, la nostra gente potrà continuare a fare guerre. Questo è il punto, ecco dove è nata l'Europa, altro che Brexit e tutto quello che sentite dire. La verità è che la gente era stanca, era stufa, era esausta e aveva voglia di pace, con la parola P maiuscola, pace. E allora si è fatta l'Europa, con un grande sogno. Allora, modestamente, per la piccola parte che mi compete assieme al collega Di Bozzano, Ausneiter, abbiamo fatto la nostra parte. Io ero nel Partito Liberale, lui era col partito della City Rolls for Partei e abbiamo caldeggiato, sostenuto per la parte che potevamo fare nell'ambito nostro, di fare l'Europa. Perché l'Europa avrebbe significato pace, lo ripeto, è una parola che forse ai tanti giovani può sfuggire, ma da una situazione di disagio e di antipatia, di odio, di bombe, di bombe, capite? La situazione era di pace. E allora si è fatta l'Europa, tutti d'accordo, fin l'Europa, ma che bellezza, esercito unico, perché si parlava di esercito unico, di polizia unica e si parlava del sistema americano, che era l'esempio per noi, perché sono stati gli americani che sono arrivati e sono quelli che hanno portato la novità, perché noi venivamo dal mondo della Germania, eccetera, 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 delle dittature, perché non si può dire baffa, e arrivavano gli americani. Gli americani hanno portato il benessere e tutti hanno pensato a fare gli Stati Uniti d'Europa. Ma che cosa avrebbe significato, ragazzi, un salto indietro di 70 anni per piacere, se no non vado avanti. Pensate 70 anni fa. Che cosa c'era? L'idea di un esercito unico. Ma ve la pensate? Non più la Germania contro l'Inghilterra, l'Inghilterra contro la Spagna, la Spagna, un esercito unico, un governo unico, una polizia unica, però sullo modello degli Stati Uniti. Ogni Stato avrebbe avuto il loro governatore, il loro sistema, magari la loro polizia, però c'era l'Europa. L'Inghilterra, tutta contenta, anche lei diceva, abbiamo fatto l'Europa e facciamo l'Euro. Quando è il momento di fare l'Euro scomincia il picchete crocete cricchete cracchete. L'Inghilterra dice, ma noi teniamo la sterlina, perché noi chi? E che scomincia a venire fuori piano piano le maniere grandezze, senza ricordarsi poca memoria, poca memoria, perché non avrebbero vinto la guerra se non c'era l'America. Questa è la verità. Solo con l'America si è vinta la guerra. Senza l'America, che sarei a chi, Mussolini e Hitler, di che dica la verità a questi scrittori, che dicano la verità, se non c'era l'America, qui c'era il signor Hitler, il garantismo me. Allora questi hanno cominciato piano piano, invece che pensare a un'Europa, sono nate, il tempo passa, non lo so. Io provo tristezza però, dico la verità. Quando ho letto il risultato ho provato tristezza. Da una parte e dall'altra, siccome nonostante i miei anni, io dentro mi sento ancora un ragazzino, Dio mi perdono, ma lei è così. Capite? Allora, quando ho visto i dati, i giovani hanno votato per l'Europa, perché sono i giovani quelli che capiscono. E per niente il Padre Eterno non la crea, la morte, non pecca che la vita sia troppo prolungata, perché in Inghilterra forse se fosse accorciata le elezioni sarebbero andate meglio. E come c'è i conservatori, c'è gli immigrati, eccetera. Io l'altro giorno, e dopo chiudo oggi, ho avuto una discussione con uno della Lega, eccetera. E mi sono permesso di dire, è vero, avete ragione, su tante cose degli immigrati posso capire tutto, ma io guardate e guardo l'America. Per piacere, voi che mi ascoltate, fate un salto indietro di 30 anni, ma facciamo anche di 20 e andiamo in America. E ditemi che cosa c'era in America. I neri non potevano andare nei bar, i neri non potevano partecipare all'università, i neri non potevano salire sui tram. E cosa è successo? Hanno un presidente nero, Obama. Questa è la verità. Quindi c'è stata una grandissima evoluzione. E se noi fossimo europei dei manager alla Marchionne, vedremmo il futuro. E probabilmente qua, un giorno o l'altro, ci sarà un mescolamento di razze. E' inutile, non c'è niente da fare. La miseria, cari signori, prevarrà sulla gente che sta troppo bene. E ripeto, è col culo nel burro. Signor Parisi, ci può dire culo nel burro? Allora col culo nel burro chiudiamo la trasmissione. Boter. Boter, allora col culo nel boter. Salve.